buona serata a tutti cari amici ebbene dopo un bellissimo pomeriggio di basket al tenso statico qui a strani ripartiamo con i video per quanto riguarda la serie a che parlerò in questo video nel pomeriggio abbiamo avuto lecce spal vittoria fondamentale del lecce per 2 a 1 che in guaia però ancora di più la spal bologna genova partì bruttissima partita dal bologno con due espulsioni ha perso 3 a 0 in casa contro il genoa e adesso che sto registrando siamo quasi al quarto d'ora tra atalanta roma siamo 0 a 0 quindi io ho visto le partite che sono andato ho citato in coda il lecce innanzitutto la terza vittoria di fila e questo fa molto morale alla squadra sedicesimo posto 25 punti a più 3 dalla zona retrocessione il primo posto retrocessione occupato dal genoa che appunto quest'oggi ha vinto a bologna la sua seconda vittoria di fila lecce che il 23 febbraio si regherà a roma e questa mi sa sarà davvero una trasferta abbastanza difficile probante il genoa invece giocherà sempre il 23 in casa contro la lazio e chissà se non riuscirà a strappare qualche punticino la spalla la sua quarta sconfitta nelle ultime cinque partite ultimo in graduatoria 15 punti grazie a tutti ci vediamo tra un poco nel prossimo video ciao